Siamo all'interno del parco delle colline, più precisamente nel comune di Rodengo Saiano, in via del Brolo, una via prettamente residenziale che ospita bellissime ville. Oggi vediamo insieme questa bellissima porzione di bifamiliare, già ristrutturata e subito abitabile. La caratteristica principale di questa villa è la sua zona giorno, una zona giorno molto importante che con i suoi 60 metri quadri prende luce da triangolazione. La cucina oggi è strutturata con questo importante penesola centrale, ma valendo c'è tutto lo spazio per poter creare una cucina abitabile. Ci seguiamo con un secondo soggiorno che può anche diventare una camera matrimoniale, mentre a nostra sinistra abbiamo un bagno completamente ristrutturato dallo stile molto moderno. Al piano rialzato abbiamo un ampio studio e due camera matrimoniali, di cui una da padronale con cabina armadio e bagno privato. Nell'interrato un garage doppio affiancato, una lavanderia, una taverna. La taverna ha l'accesso anche dall'esterno ed è adatta anche per uno studio privato. Nelle giornate estive abbiamo anche la possibilità di pranzare all'aperto, grazie a questo ampio porticato e coperto.